Ragazzi mi inizio a preoccupare, questa settimana dall'inizio dell'anno uscita la casa Dio, dall'inizio dell'anno è la terza volta che esce la casa Dio. È possibile certo, però mamma mia. Guardate questa carta, esplosione, qualcosa che esce fuori, è proprio questo il motivo che all'interno della settimana corrente dovete tirare fuori. Questo tirare fuori ha diversi significati, può trattarsi di qualcosa che non riesci a dire, quindi che è dentro di te. Ok, prima che si incancrenisce, tira fuori, anche se questa rivelazione dovesse cambiare il modo in cui tu vedi gli altri, gli altri vedono te, voi vi vedete, se vi vedete. Oppure buttare fuori perché? Perché fuori nel senso di uscire, quindi sono favorite tutte le situazioni conviviali in cui c'è festa, c'è energia, c'è gioia. Ricordati anche di sfruttare le opportunità, quindi il tuo sederino invece di tenerlo sempre sul divano, il tuo divano mentale, quello che non ti permette di affrontare la vita con grinta, cerca di alzarlo, di buttarlo in mezzo al mondo e di acchiappare le opportunità. Non farti frenare o fermare dal fatto che non conosci qualcosa, quindi potrebbe essere una fregatura. Grazie a tutti.